Per noi la Formula 6 è un evento di estrema importanza per l'associazione ma in generale per tutto il settore del motosport in Italia. Nonostante la pandemia quest'anno abbiamo voluto organizzare un evento un po' più soft nel senso che ci sono meno team, meno ragazzi, meno giudici però non volevamo saltare un altro anno dopo aver purtroppo dovuto saltare il 2020 per i motivi conosciuti. Per cui crediamo fortemente in questa manifestazione, abbiamo investito molto, crediamo il prossimo anno di ripartire alla grande con un'edizione che verrà di nuovo inserita nel calendario classico per cui fatta luglio. Speriamo di nuovo di tornare ad avere un centinaio di team che era appunto il numero che eravamo abituati negli anni passati. Continueremo a investire tra l'altro tantissimo anche in comunicazione, in visibilità appunto dell'evento perché oltre a coinvolgere i migliori team europei appunto a partecipare a questo evento vorremmo cercare anche sempre più di far arrivare persone pubblico anche all'evento, all'iniziativa per cui stiamo già lavorando da qualche anno, chiaramente abbiamo dovuto interrompere questa attività in questi due anni però per portare sempre più interesse anche da parte del grande pubblico sull'evento. Diciamo che Varano dei Melegari si presta anche bene perché ha delle tribune, ha degli spazi anche grandi per cui vorremmo un giorno vedere anche magari qualche centinaio di persone anche sugli spalti perché a quel punto vorrebbe dire che l'evento è diventato anche un evento conosciuto nel grande pubblico e non solo tra gli addetti ai lavori. La filiata dell'automotive non solo in Italia ma in generale in Europa e nel mondo sta vivendo un periodo di grande trasformazione e evoluzione. Stiamo vivendo una sorta di tempesta perfetta perché da una parte abbiamo diciamo un percorso avviato verso appunto l'evoluzione tecnologica, elettrificazione, guida autonoma, intelligenza artificiale ma dall'altra ci sono anche tanti fattori esterni che stanno diciamo minando e creando incertezza nel settore. Veramente un periodo di grande incertezza, devo dire anche un po' di preoccupazione però speriamo già nella seconda parte del 2022 perché questa incertezza durerà almeno ancora 6-8 mesi però di ripartire perché diciamo l'entusiasmo c'è e la voglia anche di investire da parte della filiera nelle nuove tecnologie c'è, i consumatori stanno sempre più approcciando in maniera molto positiva anche le vetture elettriche, gli ADAS per cui c'è sicuramente molta effervescenza però appunto bisogna cercare di sistemare questi problemi esogeni che stanno però impattando appunto sul nostro settore. Sicuramente bilancio positivo nonostante tutte le difficoltà di organizzare un evento con tutte le problematiche che hanno riguardato tutti gli eventi a livello mondiale quindi comunque condizione più ridotta, meno team ma comunque grazie al lavoro dell'organizzazione ma anche alla collaborazione di tutti i team diciamo un evento bilancio decisamente positivo per l'evento. La Formula 6 è arrivata a livello molto alto, l'introduzione delle vetture a guida autonoma sta ulteriormente cambiando la manifestazione e l'interesse di team non solo verso costruire una nave tua una vettura che prima era solo a motore termico, poi è diventata vettura a motore elettrico ma adesso è anche una vettura con tutti i problematiche di vita autonoma, sensori, intelligenza artificiale all'interno della vettura. Quindi sta evolvendo molto seguendo quelli che sono un po' i macro trend dell'evoluzione dell'industria mondiale direi.